Thomas Bussert, consigliere di Donald Trump per la sicurezza interna e l'antiterrorismo, in un editoriale pubblicato sul Wall Street Journal scrive, il virus ha colpito in modo particolarmente duro il sistema sanitario inglese, mettendo vite umane a rischio. È la Corea del Nord la responsabile del cyberattacco Van Ackry, che lo scorso maggio ha paralizzato il mondo, infettando oltre 300.000 computer in 150 paesi. L'accusa arriva direttamente da Thomas Bussert, consigliere di Donald Trump per la sicurezza interna e l'antiterrorismo, che in un editoriale pubblicato sul Wall Street Journal spiega che gli Stati Uniti hanno le prove del coinvolgimento di Pyongyang. Non siamo gli unici a sostenere la responsabilità del regime coreano? spiega Bussert. Altri governi e società private, prosegue, sono d'accordo con noi. Il cyberattacco Van Ackry è stato codardo e costoso e la Corea del Nord è direttamente responsabile. Non lanciamo accuse alla leggera. Sono basate su prove, prosegue il consigliere del presidente USA, sottolineando che le conseguenze e le ripercussioni di Van Ackry sono andate al di là solo dell'impatto economico. Il virus ha colpito in modo particolarmente duro il sistema sanitario inglese, mettendo vite umane a rischio. Mentre lavoriamo per rendere Internet più sicuro, continuiamo a ritenere responsabili coloro che ci fanno del male e ci minacciano, «sia che agiscano da soli sia che agiscano per organizzazioni criminali o per paesi ostili», aggiunge Bussert. Gli hacker maligni appartengono al carcere? E i governi totali devono pagare un prezzo per le loro azioni. E per il consigliere della Casa Bianca la Corea del Nord continua a minacciare l'America, l'Europa e il resto del mondo non solo con le sue aspirazioni nucleari. Sta usando sempre più i cyberattacchi per alimentare il suo comportamento e causare distruzioni. Bussert definisce Van A.C.R.Y. indiscriminatamente sconsiderato e, secondo un alto funzionario dell'amministrazione, la Casa Bianca oggi dovrebbe dare seguito a queste affermazioni con ulteriori dichiarazioni formali di accusa a Pyongyang. La fonte, coperta dall'anonimato, spiega che il governo USA ha accertato con un livello molto alto di sicurezza che un gruppo di hacker noto come la Tsarus Group, che lavora per conto del governo della Corea del Nord, ha compiuto l'attacco Van A.C.R.Y. Fra ricercatori del campo della sicurezza e funzionari USA c'è un consenso piuttosto ampio sul fatto che il gruppo la Tsarus sia stato responsabile dell'attacco hacker del 2014 a Sony Picture Entertainment, in cui furono distrutti file e vennero fatte filtrare comunicazioni della società online, portando molti manager a lasciare. Non è stato possibile raggiungere rappresentanti del governo nordcoreano per un commento, ma Pyongyang ha ripetutamente negato ogni responsabilità per Van A.C.R.Y., definendo altre accuse di attacchi informatici una campagna diffamatoria. Le accuse di Washington, spiega la fonte, non includono alcuna indagine ufficiale, né nominano individui specifici. Diversi ricercatori del campo della sicurezza, compresa la società informatica Symantec, come pure il governo britannico, avevano già concluso che la Corea del Nord era, probabilmente, dietro all'attacco Van A.C.R.Y., che mise fuori uso anche i computer usati negli ospedali del Regno Unito, costringendo migliaia di pazienti a riprogrammare appuntamenti, e portò disagi in infrastrutture e aziende di tutto il mondo.